La Gabetti espugna il parcheggio torinese battendo la Grimaldi per 98-84. La squadra torinese ha stranamente denunciato lunghe pause di gioco, regalando molti palloni agli avversari. Ha subito la supremazia dei canturini, che non sono apparsi irresistibili come indica il punteggio finale. L'inizio è per la Gabetti che sa approfittare della zona larga che la squadra di gamba le concede. L'opaco Taylor non riesce a controllare a dovere Flower e la Grimaldi si porta subito in vantaggio. Anche Benatti non ha in buone condizioni fisiche. Brumatti ha un rendimento alterno. Metterà segno 23 punti sino a che rimarrà in campo. Usciti per carico di Falli, Sacchetti, Fioretti, Brumatti e Taylor, la Grimaldi si è trovata nella impossibilità di trovare valide sostituzioni. L'apporto di Grokowalski, 32 punti, non è servito a copovolgere le sorti dell'incontro, molto combattuto. Chiuso al primo tempo in vantaggio per 47-44, i Canturini più forti nei rimbalzi sono riusciti con Flower, Marzorati e Cattini a ottenere un vantaggio di 14 punti. Impennata d'orgoglio della Grimaldi verso lo scadere del tempo, Grokowalski ha ridotto a soli 3 punti il ritardo della Grimaldi. È stata soltanto un'illusione. Gergati e Bariviera hanno sistemato le cose e la Gabetti ha potuto condurre in porto vittoriosamente l'incontro con 14 lunghezze di vantaggio, 98-84.